buonasera amici interisti buonasera a tutti i tifosi della squadra un saluto dal romagnolo nero azzurro immerso nella sua campagna come ben vedete oggi giornata strepitosa qui in romagna non tira un filo di vento si sta da dio e si fa la passeggiatina con il mio cagnetto che è la che gira frida viene salutare viene salutare viene salutare di stasera forza forza inter andiamo in cerca di lepri a parte le cazzate vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un commento e voglio sapere il risultato di questa sera ragazzi bisogna che me lo scrivete perché sarà una partita importantissima napoli inter una partita che se per caso noi interisti perdiamo facciamo riavvicinare anche il napoli oltre a farci superare dalla juventus e avere il milan a tre punti quindi chi piangeva chi diceva che il campionato era finito si deve rendere conto che quest'anno il campionato si deciderà all'ultima giornata e queste quattro squadre se la giocheranno tutta la pari vedrete se mi sbaglio ieri abbiamo visto un milan che comunque con mille infortuni fa una grossa prestazione e porta a casa i tre punti la juve che con culo non culo ragazzi mettete quello che vuoi adesso faccio dico dico le cose come le penso veramente la juve ragazzi è la squadra più pericolosa del campionato io lo dico da inizio anno sì lì per culo li prendo in giro va bene dicono che rubano ma sapete poi bisogna capire anche lo sfottò a volte visto che vi avete fatto una pugnetta per una settimana di darmian sul fallo di chiesa e io vi ho fatto la pugnetta su un calcio d'angolo che c'era non c'era però sembrava che non ci fosse e vi è andato calcio d'angolo avete fatto gol però voi vedete solo quello che volete vedere voi e quindi io lo faccio apposta e lo sottolineo ma tornando a noi stasera napoli inter parliamo di due squadre secondo me i due 11 più forti della serie a gli 11 del napoli io li metto a pari a pari con quelli dell'inter né di più né di meno quindi chi mi viene a dire che l'inter ha la squadra più forte questo non è vero magari l'inter ha la rosa più forte quello quello può essere quello può essere però gli 11 titolari che partiranno stasera sia per napoli che inter sono top 11 top ragazzi e saranno una bella partita sicuramente più bella di juventus inter perché ragazzi la juve è così ti fa giocare male e poi ti purga ti purga e porta a casa i tre punti facendo il minimo sforzo e quindi per quello che dico che ed è iniziato che dico che la juve si giocherà lo scudetto ditemi come la pensate ripeto iscrivetevi al canale lasciate un like ci vediamo stasera in live alle 20 e 40 chi vorrà entrare in live può entrare per discutere per commentare per litigare no problem si accetta tutto ci vediamo stasera ciao